Esattamente come non mi sento di condividere l'approccio che ho sentito da molti, sempre in riferimento alla Commissione Europea, sul tema della Tunisia, onorevole Boldrini, per carità di patria non entriamo sul tema delle autocrazie perché le elezioni da quelli che andavano a braccetto con la Cuba comunista di Fidel Castro e con tutte le altre dittature comuniste del mondo di oggi non le accetto, grazie.